anno domini 2030 in quello che sarà definito l'ultimo anno dell'era tecnorassica io alan caravaggio confinato agli arresti domiciliari per colpa di un omicidio che io non posso non definire l'incidente registro queste lettere vocali nella speranza che giungano a mio figlio lorenzo malgrado butterfly 29 il virus informatico che ha provocato una net pandemia che da ormai due mesi colpendo l'intero pianeta ha fatto piombare il mondo nella più completa disconnessione da ogni forma di intelligenza artificiale generando l'assoluta assenza di ogni forma di comunicazione questa è la mia storia questa è l'era di butterfly 29 non c'è rimango